ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel salotto di nemex si respira adesso non voglio essere cattivo è arrivato l'annuncio ufficiale da qualche ora della juventus era nell'aria era molto nell'aria anche se alcuni dicono che sono stati presi alla sprovvista si aspettavano una riconferma di allegri e invece e invece i cammini di juve e allegri si dividono qui bene o male ci sono pareri discordanti vero che gli hashtag allegri out erano molti soprattutto nelle ultime settimane per cui era un po telefonata cosa è successo è successo che a mio avviso un ciclo è finito siamo molto riconoscenti ad allegri per carità ha preso la juve dalle mani di conte ha preso una juve che aveva già cominciato ad acquistare un peso a livello nazionale dopo il periodaccio dal 2006 in poi siamo arrivati a vincere i primi scudetti appunto con conte i primi tre e allegri ha preso e ha dato una continuità significativa ci ha dato anche spessore europeo perché per la prima volta dopo anni e anni l'ultima finale che avevamo fatto era dal 2003 col milan persa siamo tornati ad essere una squadra importante nel parco scenico europeo l'abbiamo fatto col barcellona l'abbiamo fatto con real madrid abbiamo comunque anche negli anni in cui non siamo arrivati in finale con allegri raggiunto dei risultati importanti massima gratitudine massima gratitudine anche per gli scudetti cinque scudetti quattro coppa italia due super coppa italia cioè a livello nazionale non c'è stata gara con nessuno per cui grazie grazie per quello che ha fatto grazie lo dà anche lui a noi perché con il milan aveva fatto il suo primo scudettino la sua prima super coppa italia poi è arrivato da noi si è riempito il curriculum da allenatore per cui diciamo è un grazie reciproco che ci si dà però era evidente soprattutto da dopo la partita dell'andata con l'atletico nonostante fossimo passati che c'era bisogno di cambiamento forse lo si respirava già da dall'anno scorso da quell'eliminazione con real madrid che aveva visto una juve splendida scendere al bernabeu però poi vincere solo 3 a 1 e non c'è bastato quel risultato c'era la sensazione che allegri ci aveva dato quello che doveva darci ci aveva dato un certo peso ci aveva fatto raggiungere una certa importanza però avevamo bisogno di una upgrade abbiamo bisogno di un upgrade per cui credo si siano divise queste strade in maniera abbastanza consensuale abbastanza senza litigi o senza arrabbiature e adesso è da vedere cosa ci aspetta il futuro vero che abbiamo perso un argomento di discussione almeno tutti gli youtuber tutti i giornali da ormai da un paio di mesi che questo questa discussione su allegri resta c'era la dirigenza della juve che continuava questo allegri sarà riconfermato giustamente per mantenere una una certa linea di pensiero e dall'altra parte tutti i segnali che non sarebbe stato così anche perché sarebbe stato stupido da parte della società non assecondare anche se ovviamente non è che debba sempre assecondare i tifosi però quando una enorme percentuale di tifoseria ti evidenzia che non c'è più simpatia per un allenatore un po di motivi ci sono quello che si era palesato in maniera più significativa oltre ovviamente ai tifosi che non lo amavano più era che si stava evidenziando la fine di un ciclo sia sotto il piano del gioco non so a parte va bello scudetto vinto con 7 mila giornate di anticipo ma una juve bella quest'anno l'abbiamo vista veramente poche volte veramente non è riuscito a dare quello sprint quel qualcosa in più a questa squadra e soprattutto quest'anno e poi la rottura concerti giocatori cardine io un douglas costa lo amo alla follia per il tipo di giocatore che è e aveva un ruolo estremamente marginale infortuni a parte in questa juve di balla è stato snaturato è stato svalutato è stato messo al margine tra parentesi spero che questa questa novità in casa juve cioè della dia di allegri in qualche modo faccia tornare sui suoi passi di balla e magari che suo fratello dica qualcos'altro di nuovo nei prossimi giorni cioè tipo che di balla adesso è felicissimo a voler restare alla juve perché un giocatore c'è chi lo lo odia alla follia c'è chi lo ama la follia io sono tra chi lo ama la follia nel senso un giocatore che secondo me potrebbe veramente diventare qualcosa di importante per come sa giocare per come sta stare in campo per come sa tenere per come sa essere all'interno dello spogliatoio all'interno del campo comunque anche se snaturato in questi due barra un anno che è stato un po retrocesso in campo ha sempre dato il suo quando è stato chiamato ovvio che metterlo nella sua posizione in attacco sarebbe stata tutta un'altra cosa avremmo avuto un altro di bala e gli ultimi esperimenti contro la roma anche se non sono andati in gol di bala e ronaldo davanti secondo me hanno dimostrato di poter rendere ragione per cui io cambiamo un attimo discorso non vorrei per niente i cardi vabbè detto questo allegri è andato gli auguriamo il miglior futuro professionale a paris saint germain manchester dove devo andare basta che non vinca la champions di là se no andiamo a tagliargli le gambe e noi stiamo a vedere cosa succederà guardiola pocettino conte in zaghi chi chi deve arrivare abbiamo ancora questo enorme punto di domanda avremo la risposta sicuramente a breve credo che la juve non abbia fatto questo passo senza sapere cosa succederà nei prossimi giorni per cui già qualcosa di scritto deve esserci anche se non lo sappiamo noi per cui bene detto questo vi auguro un buon proseguimento a tutti voi juventini mettete like se vi è piaciuto questo video dislike se non vi è piaciuto iscrivetevi comunque al canale attivate la campanella e come sempre forza juve ciao 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 ciao